E sono qui con Andrea Suzzi Barberini per Motorissima Veicoli Elettrici. Ciao e bentornato su Mediotela Radio. Vedi, non a caso siamo all'interno di una Golf Car. Grazie. Siamo all'interno della Golf Car, che è la vetturetta più piccola della gamma Yamaha Veicoli Elettrici ed è quella che viene prodotta per l'utilizzo sui campi da golf. Allora, che caratteristiche ha un tipo di navetta, possiamo dire? No, proprio una macchina, Golf Car. La caratteristica è quella di essere nata per l'utilizzo sui campi da golf e quindi 48 volt è la potenza della macchinina, monta un motore da 2,6 kilowatt, è silenziosissima, ammortizzata sulle quattro ruote, quindi quattro ruote indipendenti con ammortizzatori e tutta la qualità, la tecnologia Yamaha installata a bordo. Allora, una scelta verde, una scelta green, una scelta coraggiosa anche da applicare proprio a un settore come quello del golf? Per forza, non potrebbe essere altrimenti. C'è chi usa anche veicoli a benzina sui campi da golf, ma l'intenzione di chi in Italia svolge questa professione è quella di mantenere la situazione assolutamente green. Tu sei intervenuto anche prima durante il meeting che è terminato per raccontare un po' questa giornata alle porte di Padova e hai raccontato anche di come poi siete riusciti a portare questo prodotto, questi servizi all'interno delle città italiane, nei centri storici, anche a Padova ci sarà a breve questo progetto e poi Roma, vogliamo citare Roma, Villa Borghese, ci sono tanti veicoli come questi elettrici anche a Villa Borghese. Sì, abbiamo dovuto percorrere una via burocratica e legislativa molto lunga per ottenere poi il risultato finale. I veicoli elettrici erano considerati veicoli atipici dal codice della strada italiano e quindi non era possibile farli circolare su strada. Siamo riusciti a far presentare dal ministro dei trasporti un decreto legislativo che ha ricevuto l'approvazione dell'Unione Europea e tre anni fa finalmente abbiamo prodotto il primo esemplare che ha potuto circolare liberamente sulle strade pubbliche. Ecco, quindi in tre anni avete raggiunto già tante città, no? Sì, sì, parecchie, parecchie. Roma è stata la prima ed è quella in cui le navette circolano più numerose. È stata seguita da Firenze, è stata seguita da Cefalu in Sicilia, le cittadine dolomiti che hanno al loro servizio dei veicoli di questo tipo che non fanno il rumore che fa questo veicolo che ci sta passando. Esatto, esatto, cogliamo subito al bello della diretta d'altronde. Seguiranno a breve Padova, Ascoli-Piceno, Pisa è già partita e Bologna. Insomma, anche il sud è stato, no? Che spesso si dice la cultura del green e più forse la immaginiamo verso le Dolomiti, verso il Nord Italia e invece Cefalu è stato un grande esempio di civiltà. Sì, sì, ma la Sicilia da questo punto di vista è un esempio perché arrivano tantissime richieste, c'è moltissimo interessamento su questa tipologia di veicolo. Bene, e allora parliamo, facciamo anche un accenno a quello che sarà poi la Ryder Cup del 2022, a questo grande indotto. Si è fatto anche un po', si è tracciata la tipologia del turista golfista che viene, spende sul territorio, sta sette giorni, porta la famiglia che magari spende diversamente, va in queste zone a degustare la parte inogastronomica che fa parte pure del viaggio. Ogni campo da golf ha poi un suo disegno fatto da un architetto, quindi insomma è bello anche esplorare con questo tipo di veicoli, golf car, elettrici, proprio il campo perché anche quello è un'escursione nell'escursione. Molti viaggiano, sì, per fare lo sport, però anche per visitare il campo. Eh ma il giocatore, il golfista, ama praticare il suo sport preferito all'interno di una cornice che deve essere bellissima e questo lo è da sempre, è da sempre così. Non sarebbe, non si chiamerebbe golf se non fosse all'interno di queste cornici che sono delle meraviglie, meraviglie costruite dall'uomo ma sviluppate dalla natura. Ricordiamo brevemente in chiusura un po' i contatti, sito, pagina? Il sito è www.motorissima.com, è il sito ufficiale della nostra azienda. Noi siamo in Romagna, siamo a Cesena e la mail è info-motorissima.com. Beh, siete stati, insomma, ci avete creduto, è una battaglia anche etica un po' in Italia, pesante. È una battaglia molto difficile, in primo luogo contro chi dovrebbe essere favorevole, che sono le amministrazioni pubbliche. A Roma, per introdurre il primo veicolo, abbiamo dovuto, diciamo, controbattere a circa 20 ricorsi, perché ci hanno sequestrato il veicolo 20 volte. Caspita! Vabbè, io oggi, scherzando, ho detto ci sono più buche a Roma che qua in un campo da golf, quindi mi perdoneranno. E allora, perché in chiusura i nostri ascoltatori, radio e anche, diciamo, telespettatori, perché siamo una web tv, dovrebbero rivolgersi a Motorissima? Perché i nostri veicoli sono simpatici, non consumano nulla, se non un pochino di energia elettrica, sono silenziosissimi e non inquinano. Grazie!